L'Aran Tweed è un filato cardato con texture melange, leggermente secco al tatto. E' adatto a maglioni aran sportivi sia uomo che donna ed è perfetto per lavorazioni a pecce o rombi ma anche per lavorazioni a più colori come la tecnica Far Island. E' disponibile in gomitoli da 50 grammi per 90 metri e consigliamo di lavorarlo con i ferri dai 4,5 al 5,5. La composizione di Aran Tweed è 50% lana Molesin free, 30% alpa caffine e 20% viscosa. Grazie.